Un nuovo femminicidio ha scosso la provincia di Caserta, con un dramma avvenuto questa mattina a San Felice a Cancello. Intorno alle 5, un uomo di 30 anni, di origine albanese, ha ucciso la moglie, strangolandola durante una violenta lite domestica. L'episodio si è svolto in presenza dei loro due figli, di soli 4 e 6 anni, che hanno assistito a una scena straziante e inaccettabile. L'aggressore è stato immediatamente fermato dai carabinieri, che sono intervenuti prontamente sul luogo del delitto. Attualmente l'uomo è in custodia presso la caserma in attesa di essere interrogato dal magistrato della procura di Santa Maria Capoavetere. La vittima, una giovane donna di 24 anni, era anch'essa originaria dell'Albania, portando a riflettere su una triste realtà che continua a colpire la società contemporanea. Questo incidente si inserisce nel triste elenco di femminicidi che caratterizzano il nostro tempo, evidenziando l'urgenza di affrontare il problema della violenza domestica e di proteggere le vittime. Spesso in situazioni di estrema vulnerabilità. Grazie a tutti.